Circa 3.000 residenti, oltre 600 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tutti concentrati in un'unica strada. Parliamo di via caduti per servizio nel quartiere Fontanelle di Pescara, dove il vicepresidente del consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha voluto questa mattina ancora una volta accendere una luce sui tanti problemi che attanagliano il quartiere. Le battaglie, ha detto l'esponente Pentastellato, sono iniziate 20 anni fa qualcosa è cambiato, ma non basta, dice Pettinari. Il quartiere è ripiombato nella omertà e nell'emergenza sicurezza. I cittadini hanno paura, paura paura di ciò che accade. Indando qui c'è uno spaccio di droga ormai senza precedenti a tutte le ore H24. Gli alloggi popolari, perché sono alloggi popolari, vengono utilizzati da delinquenti e criminali come botteghe per la droga, non perché necessitano degli alloggi. Quindi aprono la mattina, chiudono a tardanotte e c'è spaccio continuo di droga. Voi immaginate che i bambini non possono andare più a giocare in questo parco perché è diventato un ricettacolo di tossicodipendenti. I cittadini hanno paura di aggressioni, di ritorsioni. Adesso ci stavano raccontando le ultime ritorsioni che hanno ricevuto e poi ci sono persone ricche che hanno tanti soldi, disponibilità economica, che sfrecciano con macchinoni 70-80 mila euro e hanno un alloggio popolare che quando va bene pagano 10 euro. Quando va male loro occupano abusivamente, quindi non pagano nulla. E c'è ancora tanti problemi oltre allo spazio di attività illecite, usura, racket, prostituzione e quant'altro. Quindi le proposte che io faccio e continuo a fare, c'è una legge regionale 96-96, va applicata. La Regione Abruzzo deve applicare questa norma per verificare i requisiti. Chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori di casa, liberare le case e metterci cittadini onesti perché qui non si vive più, è piombata nuovamente nell'emergenza, postazione fissa di polizia, mi sto sgolando. Quante volte l'ho chiesto? Purtroppo continuiamo ancora a fare questa richiesta. Al Presidente della Regione, perché sono caseate, era al Sindaco di Pescari di partire con la verifica dei requisiti. Chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori casa. Io mi auguro che presto qualcuno ci ascolterà perché i cittadini non ce ne fanno più e poi strutturalmente queste case alcune cadono a pezzi. Quindi bisogna fare anche interventi strutturali su questi alloggi.